in casa trabucco sono nati due monofili che le possiamo utilizzare sia per il montaggio dei nostri finali e sia per il montaggio sui mulinelli ab plus cioè vuol dire abrasion oppure ss plus vuol dire super soft molto molto morbido questi due fili qui un azzurro e uno arancione hanno la caratteristiche di essere totalmente crista e totalmente neutri e adesso ve lo farò vedere con un carico di rottura elevatissimo zero memoria all'imbobinamento e come vi dicevo prima possono essere utilizzati sia per la pesca classico il mulinello che per il montaggio dei nostri finali io sto utilizzando nel feeder per creare i finali classici voi sapete che io sono innamorato di un fluorocarbon fc 403 grandissimo carico di rottura grandissima tenuta al nodo e lo uso praticamente sempre quest'anno ho incominciato a utilizzare anche questi nuovi fili qua che in certe occasioni come per esempio questi canali qua dove ci sono tantissime cozze sul fondo o degli sassi cose di questo genere qui la b plus è un filo che mi aiuta tantissimo a non rovinare la mia parte finale della lenza ss plus invece nel momento in cui devo presentare l'esca molto molto morbida e scendere giù molto 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 lentamente con un ammo tipo del 18 del 20 e un begatino mi aiuterà tantissimo a fregare qualche pesce magari sospettoso questi due fili qui vi farò vedere adesso un il nodo più brutto che si possa fare vedere al filo e che tenuta a filo del 14 e 3 ne prendo un pezzo faccio un nodo che nella pesca non si fa mai cioè il classico zero qualsiasi filo che si fa questo nodo si rompe guardate guardate i miei due pollici se sto tirando non sto scherzando non ve lo posso far provare e vi dico andate nel negozio a provare ma guardate le mie punte delle dita quanto sto tirando per cercare di rompere questo filo in diretta vedete ho tirato talmente tanto che lo si vede dai dai due lati del filo e lui non si è in diretta vedete ho Grazie per la visione!